Vorresti collegare dei rete statici voluti in una rete PLC, ma pensi che sia complesso e poco documentato, quindi cerchi un sistema facile, veloce, replicabile e accompagnato da tutorial. Ciao, sono Moreno, aiuto sistemisti come te a collegare i nostri rete statici in una rete PLC. Queste apparecchiature sono sempre più spesso collegate in una rete cablata e utilizzano protocolli dai più semplici ai più complessi, su comunicazione seriale e su Ethernet. Volevamo venire incontro a questa esigenza e così abbiamo sviluppato dei sistemi per poter utilizzare i nostri rete statici con i più diffusi protocolli di comunicazione e in particolare con Siemens. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo ascoltato le necessità dei nostri clienti e sviluppato delle librerie software che contengono la maggior parte delle esigenze segnalate, come la semplicità, la velocità di implementazione e la replicabilità. Ci sono molti vantaggi da queste librerie. I principali sono blocchi funzioni specializzati per ogni protocollo, variabili già nominate, uguali per tutti i blocchi e con la stessa formattazione dei dati. In più, anche progetti, ad esempio, già pronti per l'uso. Infatti, potrai comunicare con il protocollo PROFINET, MODBUS TCP, MODBUS RTU, con pochi clic e mantenendo sempre la stessa struttura dati. In questo modo diventa molto più semplice l'interfacciamento dei nostri sistemi RevoPN, RevoPC, RevoC e Revex, sia al personale esperto che a quello meno esperto. E la cosa straordinaria è che in pochi clic potrai costruirti la tua rete. Allora, clicca qui in basso e lascia la tua mail per ricevere il pacchetto completo. Quindi, buon lavoro, buona visione e non perderti i prossimi video. Grazie a tutti.